Come riparte Strassicura? Era un obiettivo della mia amministrazione in questi cinque anni sul quale io dico la verità avevo poche speranze che potesse ripartire anche perché a dispetto di un investimento importante sulla proprietà del comune da parte della fondazione Monnalisa sono venute meno le partnership con le istituzioni più importanti regione e provincia ovviamente non per mancanza di volontà ma per mancanza di risorse economiche oggi c'è questa riapertura del Strassicura 2.0 da domani quando poi il taglio del nastro sarà effettuato c'è da pensare alla gestione, c'è da pensare alla continuità, c'è da pensare al futuro e speriamo che anche con il nostro sostegno ci possa essere un futuro che garantisca obiettivi altamente nobili che sono i risultati che gli incidenti stradali da queste parti ma in generale possano costantemente diminuire. Quindi la gestione sarà sempre di fondazione Monnalisa Ollus? C'è la fondazione Monnalisa Ollus ma la formula guida sicura che sostanzialmente ha sposato questo progetto e questo impianto che a modo anche inclusivo cercherà di coinvolgere dalle scuole guide a tutti coloro che hanno affinità con questo settore coinvolgendo però in modo importante anche tutto il mondo l'apparato scolastico quindi il nostro provveditorato agli studi di Arezzo e tutte le scuole locali. Non c'è legame più forte, legame migliore del concetto di prevenzione che può sposare l'ILT e tutti i partecipanti ai loro corsi quindi chi verrà a fare questo tipo di esperienza che soprattutto io l'ho fatta in primis e è veramente bellissima gli verrà data una tessera l'ILT. La tessera l'ILT, quello che io vorrei precisare è il fatto che non è beneficenza cioè è proprio un oggetto, uno strumento che permette alle persone di usufruire di visite gratuite di prevenzione oncologica.